Sì, mi intrametto di nuovo io come ho fatto alla fine della mattinata, adesso ci stiamo avviando la parte finale. Mi intrametto per fare un mestiere che non è il mio, però voglio ringraziare alcune persone che sono venute, alcune sono già andate via. Ma stamattina è venuto, è stato tutta la mattina con noi, defilato lì sul lato destro, Sergio Staino che è un amico e un fratello, è venuto ad ascoltare, gli ho chiesto se voleva parlare, ha detto di no, che era una bella giornata ed è venuto a sentire. Ci sono stati e ci sono tutt'ora in questo caso degli esponenti del governo, è stata con noi Teresa Bellanova fino a pochi minuti fa e con noi stessi amici che qui alla presidenza che ringrazio, sono sottosegretari del nostro governo. Il ministro Maurizio Martina mi ha mandato un sms molto affettuoso, è trattenuto a Milano, ci sono delle iniziative al cantiere dell'Expo, la Salone del Mobile, quindi Salone del Mobile, sì non voleva adesso mancare di rispetto a questa importante manifestazione. Volevo anche salutare, è stato con noi tutta la mattina, poi è andato via anche lui, volevo salutare Guglielmo Epifani che ha condotto la transizione del nostro partito.